Ciao ragazze, benvenute in un nuovissimo video shopping. Oggi è sabato e sono qui per farvi un video shopping di acquisti, di articoli, un po' in saldo, un po' no, eccetera, eccetera. Oggi ho fatto un trucco super strong perché veramente mi sento very very strong, un po' troppo strong nel video, sono molto scura, dico la verità. In realtà è un verde molto chiaro, cioè chiaro, non è così scuro come dà questo effetto di profondità nell'occhio. Allora, video shopping, io parto subito con un paio di stivali che mi sono arrivati, che sono tra l'altro degli stivali scamosciati di pelle, che sarebbero anche bene con l'outfit, il mio outfit of the day. Quindi vabbè, e sono praticamente numero 39, in buonissime condizioni, sì, in pelle scamosciata, sono degli stivaletti neri, fatti in questa maniera qua, guardate che carini. Quindi con il laccetto dietro, tutti completamente di pelle, aspettate che ho un pelucchietto scamosciata, sono anche molto fini sulla gamba, come potete vedere, cioè scusate sul piede, ok? Vedete il piede, com'è un bello fine affusolato, sono davvero super super carini. Numero 39, vi faccio vedere anche l'altro per correttezza, ottime condizioni, tra l'altro potete scegliere se tenerli su e arrivano, fatemi vedere, perché sono appena leggermente sopra il ginocchio, quindi molto carini anche con gli abitini, oppure risvoltarli, se li volete risvoltati, se vi piace l'idea di averli sotto il ginocchio, io consiglio di tenerli su perché fa un bellissimo effetto, soprattutto lo stivale in pelle. E questi qua vengono 21,50 euro, sono veramente un ottimo acquisto perché i neri, tra l'altro, vanno praticamente con tutto. Passiamo all'abbigliamento, è arrivato questo bellissimo abitino di Zara, che è una sorta di tubino un pochino ispirato al vintage, leggermente, è un po' agli anni 60, posti le patti bravo, eccetera eccetera, per versione monocolore, di Zara taglia M, taglia M vuol dire che siamo sulla taglia 42, guardate che meraviglia, 42 anche morbida. color ciclamino con le taschine, fatto in questa maniera qua, special price, questo è bellissimo, sta bene sia col bianco che col nero, come potete vedere, come sta anche indossato su di me, ve lo metto in uno special price, ragazze, di 6,90 euro, oddio mi è caduto. Oggi sarà un video monotematico a tema Zara, non è vero, però neanche a farlo apposta, dicevo ragazzi, scusate, stavo dicendo, video monotematico a tema Zara, vi voglio fare anche un po' di svuota tutto, anche qualche scarpetta, adesso vediamo. Questa è una gonna di Zara, taglia M, nuova, con etichetta, un po' in stile tweed Chanel, cioè non è tweed Chanel, un po' in stile Chanel, ma non è tweed, è in versione tipo lana. È una taglia M molto morbida, va bene, 42 anche 44, super morbido, adoro questa trama, questi colori, bellissima, ricorda un po' tipo Marc Jacobs, quelle stampe lì. È super super carina, non è neanche una minigonna, arriva sopra il ginocchio, bellissima da mettere con i maglioncini, con i baschettini, con le camicie, è bella pesante. E questa qui ragazze, è nuova, con etichetta, ve la metto a uno special price di 9,50 euro, davvero molto bella, praticamente stupenda, belli anche i colori, con questo micro glitter. Abitino ragazze, full color, questo mi era già arrivato, l'avevo già venduto, me ne è arrivato un altro, taglia S, va bene fino a 42, è stupendo. È arcobalenoso, mi piace tantissimo, unicornoso, possiamo dire, fatto molto bello, portafoglio, veste che è una meraviglia, indossato sta molto bene, delimita bene anche la parte qua del décolleté, ed è fatto davvero molto bene, super 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 carino per la primavera. Questo qui è anche uno special price ragazze di 7,50 euro, meraviglioso, ottime condizioni. Un altro articolo nuovo, questa magliettina, taglia unica, io però vi consiglio SM, non troppo abbondante, perché è parecchio piccina, cioè non è tanto esagerata, bellissima anche questa, questa vi ricorda tantissimo Cavalli, guardate come sarebbe bene con il bel baschetto in velluto. È carina perché è in ciniglia, con questo bellissimo colore ispirato appunto a Cavalli, taglia unica fino a 42, anche morbida, va benissimo, e ha il voal nero sul fondo, nuova con etichetta, viene 8,90 euro, molto bella, anche questa in sconto. Di Borgo Fiori, questa giacchetta taglia S, guardate che meraviglia, da boutique, guardate, con il cappuccio, un capo molto particolare davanti, fatto in questa maniera, ha le manichine così, tipo in tessuto, in maglia, con la gestatura, e dietro ha il suo cappuccino, fatta così. Taglia S, ragazze, Borgo Fiori e Brand, ed è in special price a 10,50 euro, un capo meraviglioso, molto particolare. Passiamo davvero alla donna in tweed, non so perché prima ho detto tweed, questa è in tweed, una gonnellina a tubino grigia, meravigliosa. Come taglia, ve la dico subito, è tutta foderata, fatta davvero molto molto bene, proprio da boutique. Come taglia, ve la dico subito, non è vero. A occhio vi direi un 44, vista proprio così, assolutamente, 44 anche morbide, guardate che meraviglia. Al limite ve la posso misurare, se avete, non è messa dritta, però mi sa, aspettate che ve la faccio vedere. Allora, ok, mi sa che questa è la parte davanti, ce la posso fare. Ok, ve la faccio vedere così, ha pure il bottoncino, guardate che bon ton, che è stra bella, ed è in condizioni perfette, pari praticamente al nuovo. E questa qua, ragazze, viene 11,50 euro, c'ha pure la balsettina, un tessuto molto molto bello. Passiamo ad un capo vintage, proprio reduce dagli anni 80, questo è spettacolare, un bellissimo maglione. Vi consiglierei una taglia unica, comunque in abbondanza, verso la ML. Guardate che meraviglia questo maglione. Un maglione stupendo, proprio anni 80 puro, collo alto con questi glitter, il corpo tutto così, molto pop, guardate che meraviglia. Lì devi metterlo così, con un bel paio di, chiamiamoli fuso, proprio reduce dagli anni 80, perché lei non mi piace, fa molto teen. Preferisco chiamarli i fuso, con un bel fuso, magari anche nei copelle, e questo bel maxi maglione sopra, un bel cappottino, una pelliccetta corta, un outfit anni 80 ad hoc, meraviglioso. Questo maglioncino qua vintage, proprio originale vintage, dentro anche dei glitter, i colori sono stupendi, ragazze, ve lo metto a 14,50 euro a dentro gli spallini, davvero adorabile. Ragazze, un'altra gondellina vintage, anche qua siamo sul 44, anche morbido, tutta pieghe nera, vintage, vintage, meravigliosa. Special price, probabilmente anche in lana, questa è stupenda. Midi, arriva fino, diciamo, quasi alla caviglia, metà colpaccio. Ve la metto a uno special price di 12,50 euro, è regalata, questa è bellissima. Probabili in lana. Passiamo ad un blazer molto particolare, molto carino, questo che è una taglia S, guardate che meraviglia. Penso che sia una S, però anche questo non ha dentro un tubo, tipo vintage, non lo so, sembra tipo vintage, è una fattura che è pazzesca. Guardate che meraviglia, molto particolare. E questo qua anche special price, ragazze, a 13,50 euro, taglia S morbida, bellissimo. Passiamo a una sorta di giacchettino, non so perché continuo a dire passiamo, passiamo. Vi faccio vedere un giacchettino della iSeek, va dentro anche della lana vergine, vi dico la composizione, 75 acrilico, 10 lana vergine, 10 viscosa, 5 alpaca. È un bellissimo cardigan, giacchino, guardate che carino. È una taglia, non c'ha la taglia, secondo me è una taglia tipo unica, SM, anche morbida, fino a 44 ci siamo, anche bello morbido. Bellissimo, condizioni perfette, guardate che meraviglia. Fatto in questa maniera, bellissimo per la primavera, con degli outfit, vi fa proprio da giacchino, oltre che da, insomma, da golf. Ed è stupendo, non so se conoscete il brand, comunque si aggira sui 50, 60 euro un articolo di questo tipo. Prezzo da bolle da Veronica, 13,50 euro, meraviglioso. Passiamo ad un bellissimo abito, questo è un optical anni 70, guardate che fantasia meravigliosa. Questo poi lo devo fotografare sul manichino, assolutamente, perché è troppo bello, guardate che meraviglia questo vestito. Anni 70, a simmetrico, più corto davanti, più lungo dietro, in jersey, molto morbido. Questo si adatta davvero un po' a tutte le taglie, non ha nessun tipo di indicazione, però io vi assicuro che è una ML morbida anche. Super super carino, ha pure il suo polsino sul fondo. Mi piace tantissimo questo camel con questo verde molto molto intenso. È bellissimo, secondo me è indossato, con un bello stivalone e un bel cappotto aperto. Anche magari color cammello, mi piace da matti. Questo qua, ragazze, ve lo metto in uno special price di 6,90 euro regalato. Passiamo a Max Mara, vi faccio vedere questo blazer vintage. È di Max Mara perché ha tutta la fodera logata Max Mara, ok? Quindi vi confermo io che è di Max Mara ed è bellissimo. È un blazer, fatto in questa maniera, ora vi dico qualcosa circa la taglia. A occhio vi direi che è un 42-44, ora magari lo provo che così vediamo. Ah, ok, c'è dentro segnato. Max Mara, ok, vintage ovviamente, presumibilmente di lana. Taglia 85 lana vergine per essere precisi, 15% cashmere, cioè wow, fantastico. Ed è, come taglia, non si capisce, italiana 38, dubito che sia un 38 o comunque se è un 38, è un 38 molto morbido. Adesso lo provo. Comunque, il prezzo di questo blazer, allora, scusate, mi sono spogliata così vi faccio vedere. Ha un'ottima composizione, lana più cashmere, secondo me, wow, che meraviglia. Vedete che su di me va, cioè nel senso qua siamo su 42, anche morbido. Che meraviglia. È uno spettacolo, questo qua, ragazzi, ve lo metto a 38,50 euro ed è un Max Mara lana più cashmere. Bellissimo blazer, 42-44, che meraviglia. Questo, tra l'altro, da solo completa anche l'outfit come giacca, altrimenti vi tiene caldo. Mettete una bella sciarpona in lana, è spettacolare. Allora, ragazze, continuo, mi sono, vabbè, ormai adesso spogliata, vi faccio vedere poi. Un bellissimo cardigan vintage, voglia di, voglia, 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 voglia maglia, creazioni alta moda, palma. Questo è un cardigan vintage, meraviglioso, presumibilmente pure questo di lana, vediamo se c'è la composizione, figuriamoci. Certo che no, sì, vabbè, ve lo dico io che qua c'è dentro della lana. È un bellissimo golf vintage, color, questa specie di tortora, quasi grigio piombo, con tutto questo intreccio e questi strass. Meraviglioso. Anche questo siamo sulla taglia ML, abbastanza morbidino, quindi vi direi che va tranquillamente 42, 44, 46, anche più morbido. Ovviamente più siete slim e più vi aderisce, diciamo, più siete slim e più vi va over, e più siete over e più vi va slim. Molto bello, ve lo metto ragazzi, è 17,50 euro, è uno spettacolo questo, bellissima, chicca vintage. Allora, vi faccio vedere poi, mi sono messa qui nell'angolino, così non vedete il casino che c'è dietro, questa gonnellina della Lidl, Esmara, questa è una taglia S che va bene fino a 42 morbida, perché è una S molto ambornante, un pochino Indianina style, molto 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 carina, condizioni perfette ragazze, al prezzo di 4,50 euro, ottime condizioni. Passiamo ad un gilet stra-divarius taglia L, maglia più pelo, ecologico, è una L, non è una L esagerata, va bene tranquillamente anche a M, dietro è fatto così in maglia e davanti così, super super carino anche questo. Lo faccio vedere comunque indossato, allora che così vi fate un'idea, non so perché, ma avevo voglia io di provarlo. Guardate che carino che è, super super carino, questo qua ragazzi ve lo metto a 9 euro, prezzo fantastico, un po' così col mammuttoso. Un altro abitino Optical da Boutique, guardate che meraviglia, qua siamo sulla taglia 44, anche abbastanza morbida, 42-44 morbida, di Lazzarini Tiziana, super super carino, ve lo faccio vedere, guardate come è fatto bene anche nella parte qui sopra, special price ragazze, 8 euro, guardate che bella trama. Ragazzi vi faccio vedere poi quest'altro abitino in tunica, molto carino, tipo da mascato, un po' versione tipo copri di divano, della, vabbè, pronto moda Sweet Miss, taglia L, consiglio un 46, 44-46, molto carino anche questo, mettere con gli stivaletti. Ok, e questo qua ragazzi ve lo metto a 5 euro e 50 centesimi. Altra gondellina super carina di questi qua da mettere con i maxi maglioncini, questo io lo consiglierei con un bel maglione o rosa o bianco, un bel maxi maglione, è questa qua con dentro tutti questi toni del rosso, taglia M, veste una taglia M, anche se magari c'è scritto un'altra taglia, adesso io non ho pazienza di controllarvi la taglia, però vi assicuro che veste 42-44, anche abbastanza morbida e bella elastica, e ve la metto ragazzi a 5 euro, molto carina la trama. Altro abitino super carino, questa è una specie di alcantara, una sorta di quasi vellutino, non so come spiegarvi, una taglia S, è una S abbastanza morbida, quindi va benissimo fino a 42 morbida, ed è fatta in questa maniera, un po' stile cavalli, mi piace tantissimo. Avevo un tagliorino di Giascavalli che aveva circa questa trama, molto bello, anche questo ce lo vedo bene con un bel cashier, una giacca di pelle anche in primavera, è super 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 carino, e ve lo metto ragazzi a 11,50 euro, molto molto carino, con la gondalina, collezioni ovviamente eccellenti. Vi faccio vedere poi questa felpina qua, vintage anni 90 di Malboro, segnala che è un XL, consiglio quindi 46, anche 48, questo qua ragazzi lo metto in special price a 3,90 euro, è una sorta di, ok qua c'è il brand, è una sorta di cardigan, chiamiamolo così, felpa cardigan, giacchetta. Altro nuovo arrivo, questo primaverile, questa bellissima gonna, tutta rigida, la taglia è una 42, ok, se riesco a farvi vedere la trama, guardate che meraviglia con tutti questi fiorellini, questa qua ragazzi ve la metto a 8,50 euro in special price, è una gonna proprio a palloncino, molto bella, si deve mettere con gli stivaletti, con gli anfibi, con i sandaletti l'estate, guardate che bella trama che ha, ed è una taglia 42. Giacchettino di combipel, questo in vera che è le viola, taglia 44, 46, fatto in questa maniera qua, ok, è di combipel, ha questa, questa trama qui, non so se dire trama, comunque è in struzzo, si chiama così, vera pelle, 44, 46, viola, una bellissima punta di viola, molto anni 90, special price, 8,50 euro, vera pelle ragazzi, special, special price. Un'altra gonna meravigliosa, questa è in vera pelle ed è stato aggiunto l'elastico vintage, fatta tipo a mano, guardate che spettacolo, tutta foderata, questa è tutta in pelle, e come taglia siamo sulla 46, anche abbastanza morbidina, meravigliosa. È uno spettacolo ragazze, stupenda, l'elastico, presumo proprio che sia stato aggiunto, ma è fatta tipo a mano, bellissima, questa qua ha 18,50 euro, il prezzo di rilancio, cioè prezzo lancio, non di rilancio, prezzo lancio, è uno spettacolo questa, per la primavera. Passiamo ad un cappottino, questa è una taglia unica, o alla taglia, non mi ricordo, in taglio maschile, questo me lo ricordo perché ne avevo venduti anche altri, fatti così, mi è arrivato ancora, 4% lana, taglia S, ma una S molto, morbida, che va bene, scusate se è un po' stropicciato, va bene anche a M, adesso ve lo faccio vedere indossato, special price ragazze, 12,50 euro, 4% di lana, un po' più sul primaverire, le condizioni sono ottime, ve lo faccio vedere, ne avevo ancora quando non avevo ancora il negozio, fatti così, è una S che va bene anche a una M, guardate che carino, taglio maschile, poi vabbè, è stato un po' stropicciato, ma è davvero super carino, bello anche da portare aperto, bello il colore verde militare, è ottimo il prezzo per un cappottino, ragazzi vi faccio vedere poi questa gondellina, anche questa super primaverile, stiamo sulla taglia M, ha questo elastico in vita, ah no scusate, è fatta così, non so se non vedrà il contrario, questa è la parte davanti, quindi la fascia resta visibile, taglia sì, siamo su 42, anche morbido, molto belle anche le pieghe sul fondo, special price ragazze 6 euro, un maglioncino, questo qua di Nadine taglia S, da boutique, molto carino, super super fine, da mettere ovviamente con sotto qualcosa, special price ragazze, ve lo metto a 6,90 euro, guardate che carino, con sotto ovviamente qualcosa, ma anche con sotto un mini dress, se ce lo buttate sopra, se siete sulla S, è abbastanza streminzita, è molto carino, ragazzi vi faccio vedere poi un abito di twinset, molto bello anche questo, qua siamo sulla taglia 44, 42,44, è un twinset e viene 26,50 euro, tutto in jersey, qua c'è il fiocchettino da fare blu, la trama è così, è molto molto bello, twinset, simona Barbieri, ottimo il prezzo, ve lo faccio rivedere, guardate che meraviglia, sì siamo sulla taglia 42,44 assolutamente, molto bello, ottimo anche il prezzo. L'ultimissimo capo di oggi, poi ho finito, voglio farvi un po' di svuota tutto, però vabbè, di Berska, questa felpina grigia, un po' crop Berska Girl, ma in realtà va bene a una SM anche morbida, da donna, molto carina, un po' crop top, si può mettere con sotto una dolce vita tipo la mia, e ce la buttate sopra, è comunque Zara M, scusate Berska Girl, ve la faccio vedere così, e viene 4,50 euro, super 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 carina con tutti questi patch, e anzi no c'è ancora un capo, scusate ve lo faccio vedere, poi chiudo davvero, questo Maxima aglioncione taglielle vintage, bellissimo anche questo, ovviamente lo potete mettere anche in forma oversize, è molto modaiolo questo, con un bel cinturone, una bella borsa in pelle, un bello stivale con magari un camperos, no non è vero, un texano tipo, con dentro un jeans, non lo so, mi è ispirato una roba così, pantalone bianco, Maxima aglione, texano, ve lo metto ragazze, special price 9 euro, con questo chiudo, spero che questo video vi sia piaciuto ragazze, vi saluto, ci vediamo nel prossimo, fatemi sapere nei commenti, grazie per aver visto questo video, ciao!